Endless Love Anticipazioni. Oggi vi racconterò un intreccio mozzafiato, fatto di amore, tradimenti e colpi di scena inaspettati. Siete pronti? Iniziamo! Banu è estremamente invidiosa delle attenzioni che Tariq sembra rivolgere a Pelin. Frustrata, lo affronta. Ma Tariq nega qualsiasi interesse per Pelin, sottolineando con decisione quanto sia ancora arrabbiato per il tradimento di Banu. Le sue parole sono piene di rancore e le ferite del passato sembrano ancora aperte e dolorose. Ma voi cosa ne pensate? Credete che Tariq dica la verità? Nel frattempo, Nihan cerca un modo per comunicare con Kemal senza attirare attenzioni indesiderate. Chiede a Leila di consegnargli una lettera, sperando che attraverso queste parole scritte, possa esprimere i suoi sentimenti e pensieri, nonostante la distanza forzata tra loro. È il giorno dell'Assemblea Generale del Consiglio di Amministrazione, un evento cruciale a cui partecipa anche un revisore dei conti, per garantire la trasparenza delle operazioni. Durante la riunione, Kemal prende la parola e sorprende tutti i presenti con un annuncio inaspettato. Rivela che, grazie al recente rinvenimento di una vecchia miniera nel terreno della centrale termoelettrica, si procederà presto con i lavori per renderla di nuovo operativa. Questo intervento rappresenta una svolta significativa per l'azienda, promettendo nuove opportunità e una rinnovata crescita economica. Kemal, con il suo discorso, dimostra non solo la sua competenza e visione strategica, ma anche la sua capacità di guidare l'azienda verso un futuro promettente, nonostante le difficoltà e le sfide del presente. Questi eventi intrecciati mettono in luce le complesse dinamiche interpersonali e le sfide professionali che i personaggi devono affrontare, ognuno lottando per trovare il proprio equilibrio tra emozioni personali e responsabilità professionali. In presenza di Ozan, Zeynep mette in atto un piano astuto e calcolato. Fingendo di avere delle forti nausee, inganna abilmente il marito, lasciandogli credere che sia incinta. Per rendere la sua messa in scena ancora più convincente, Zeynep si procura un test di gravidanza positivo, non suo, ma di una ragazza realmente incinta, amica di Sema. Il test con il risultato positivo è la prova tangibile, che completa il suo inganno. Ozan, ignaro del trucco, è al settimo cielo alla notizia. L'idea di diventare padre lo riempie di gioia e speranza per il futuro. Tuttavia, questa felicità è destinata a essere breve. Zeynep, determinata a ottenere ciò che vuole, rivela le sue vere intenzioni con un tono glaciale. Lo ricatta. Terrà il bambino solo se Ozan le rivelerà tutti i segreti nascosti della sua famiglia. Ozan, colto alla sprovvista, si trova di fronte a un dilemma devastante. La minaccia di Zeynep mette Ozan in una posizione difficile, costringendolo a scegliere tra la gioia di diventare padre e la lealtà verso la sua famiglia. Ogni momento passato con Zeynep diventa carico di tensione e sospetto, mentre Ozan cerca disperatamente di trovare una soluzione che possa proteggere sia la sua famiglia che il futuro del bambino che crede in arrivo. La manipolazione di Zeynep non si ferma qui. Ogni giorno aggiunge nuovi dettagli alla sua recita, portando avanti la farsa della gravidanza con una precisione quasi perfetta. Ozan, sempre più preoccupato e confuso, inizia a notare piccole incongruenze, ma è troppo immerso nella speranza e nella paura per vederle chiaramente. Questa situazione complessa e tesa evidenzia la capacità manipolativa di Zeynep e la sua determinazione a ottenere ciò che desidera a qualunque costo, mentre Ozan si trova intrappolato in un vortice di inganni e dilemmi morali. La storia si evolve in un gioco pericoloso, di verità e menzogne, con entrambi i personaggi che navigano nelle acque torbide della fiducia e del tradimento. Nihan è ufficialmente tornata a casa di Emir, una situazione che pesa molto sul suo cuore. Tuttavia, determinata a mantenere il contatto con Kemal, riesce, con l'aiuto di Leila, a far recapitare una lettera al suo amato. La lettera, carica di emozioni e segreti, è un invito per un incontro clandestino. Kemal e Nihan si ritrovano nella casa ormai vuota dei genitori di Yasemin, che in quel momento si trovano all'estero. L'atmosfera della casa deserta aggiunge un senso di intimità e segretezza al loro incontro. Durante questa notte, Nihan, con voce tremante, ma decisa, chiede a Kemal di passare la notte insieme, cercando conforto e amore in mezzo al caos che li circonda. Nel frattempo, Gokhan, sempre alla ricerca di uno scoop, riesce a catturare delle fotografie del loro incontro segreto. Le immagini raccontano una storia di passione e vulnerabilità, immortalando un momento che dovrebbe rimanere privato. Asu, venuta a conoscenza delle foto, vede un'opportunità per colpire Nihan e Kemal. Ordina a Gokhan di pubblicare le fotografie il prima possibile, con l'intento di mostrarle a Emir e creare scompiglio. Tuttavia, Tufan osserva il piano di Asu con disapprovazione. Non condivide la sua strategia e la manipolazione delle vite altrui per scopi personali, creando una frattura tra lui e Asu, e rivelando le differenze nei loro valori e visioni del mondo. La tensione cresce, mentre Asu prepara la pubblicazione delle fotografie. Nihan e Kemal, ignari della minaccia imminente, cercano rifugio l'uno nell'altro, ma il loro momento di tregua è destinato a essere interrotto. L'ombra delle foto scattate e del piano di Asu incombe su di loro, promettendo ulteriori complicazioni e conflitti. In questo intreccio di amore, inganno e lealtà, ogni personaggio si trova a fare i conti con le proprie scelte e le loro conseguenze. Le riviste scandalistiche pubblicano delle foto compromettenti, che ritraggono Nihan e Kemal sulla spiaggia, facendo sembrare che i due si siano incontrati per un romantico appuntamento clandestino. La notizia esplode rapidamente, con i giornalisti che gridano allo scandalo e le immagini che diventano virali, alimentando pettegolezzi e speculazioni. Emir, furioso per l'apparente tradimento, decide di agire con astuzia. Prenota la stessa camera d'albergo in cui si presume che Nihan si sia incontrata con Kemal, orchestrando un piano ben preciso. Ordina a Tariq di portare Nihan sul posto. Tariq, sebbene riluttante, obbedisce, ignaro delle reali intenzioni di Emir. Nel frattempo, Kemal scopre che suo fratello Tariq ha portato Nihan in quell'albergo. La preoccupazione e la rabbia si mescolano in lui, spingendolo a recarsi immediatamente sul posto. È determinato ad affrontare Emir e a proteggere Nihan da qualsiasi pericolo. Nell'albergo l'atmosfera è tesa. Emir attende l'arrivo di Nihan, pronto a confrontarsi con lei e a dimostrare il suo controllo. Nihan, portata lì contro la sua volontà, si sente intrappolata e vulnerabile. La presenza minacciosa di Emir la mette in allarme e la sua mente corre a Kemal, sperando che lui arrivi in tempo. Quando Kemal arriva all'albergo, la tensione raggiunge il culmine. Determinato a salvare Nihan, entra con forza nella camera d'albergo. La scena che si presenta ai suoi occhi è carica di drammaticità. Emir con uno sguardo di sfida e Nihan visibilmente spaventata. Kemal, con una calma forzata, affronta Emir, pronto a tutto pur di proteggere la donna che ama. Il confronto tra i due uomini è intenso. Emir cerca di mantenere il controllo, ma la presenza risoluta di Kemal lo mette in difficoltà. Nihan, trovandosi tra loro, cerca di mantenere la calma, ma il suo cuore batte forte. Sa che qualsiasi errore potrebbe avere conseguenze devastanti. In questo clima di alta tensione, ogni parola e ogni gesto sono carichi di significato. Kemal non solo difende il suo amore per Nihan, ma anche la sua volontà di sfidare Emir, dimostrando che non si piegherà alla sua tirannia. La situazione è esplosiva e il destino di Nihan e Kemal sembra appeso a un filo, mentre le forze dell'amore e dell'odio si scontrano in un drammatico duello. Ma cosa succederà adesso? Pensate che Kemal riuscirà a proteggere Nihan e Emir? Riuscirà a portare a termine il suo piano? Lasciateci un commento qui sotto con le vostre previsioni e opinioni. Questa storia è un vortice di emozioni, inganni e sfide. Ogni passo potrebbe essere decisivo e ogni scelta potrebbe cambiare il destino dei nostri protagonisti. Continuate a seguirci per scoprire come andrà a finire questa incredibile avventura.